Circa 250 adesioni sulla pagina Facebook in nemmeno una settimana e 40 sul gruppo di WhatsApp. È il primo e positivo bilancio del nuovo progetto social L24 San Pietro, un tentativo messo in campo dai residenti di questo quartiere periferico di Pavia per rispondere al problema sicurezza. L'iniziativa è in continua espansione e a breve nascerà anche un'app in grado di segnalare sul territorio la posizione delle sentinelle del gruppo. Siamo proprio all'inizio, l'idea è quella che siano segnalate anche movimenti di persone sospette. Mi è stato già detto che ci sono delle persone, in parte della moda, dei ragazzi giovani con la bicicletta che girano e fotografano le auto e le case. Questo è stato molto sospetto, quindi siamo agli inizi e aspettiamo i primi risultati. Dall'esperienza avuta con Linarolo e con L24 in generale, specialmente Linarolo, queste pratiche di passavoce delle situazioni difficili e criminali è una tecnica che funziona piuttosto bene, ci aspettiamo dei risultati. Un progetto fai da te che si è avvalso anche della collaborazione di Rodolfo Faldini, consigliere comunale di opposizione e residente del quartiere. È una cosa questa che chiaramente sopperisce alle lacune, alle inerzie della politica cittadina, dell'amministrazione comunale che a tutt'oggi non è riuscita a proporre o a produrre risultati o proposte che potessero essere così rispondenti alle esigenze e alle necessità della gente.